musica salve a tutti i ragazzi ben tornati con gli fg Andrew e oggi siamo di nuovo qui per un nuovo episodio di Rhyme and Origins versione P.S. Vita perchè si ho deciso di riprendere un attimo questa serie perchè mi mancavate ragazzotti mi mancava molto anche Rhyme quindi direi di ripartire subito con rimbalzi pazzi no no non voglio di fare la prova a tempo piece of merda siamo nel deserto perfetto già ha preso il cuore oh ma salve salve molto piacere qui vedo una monetina grazie ah per chi se lo stesse chiedendo se volete farò sì se lo chiedete farò altri gameplay di come dire di serie di giochi su P.S. Vita se volete che li continui a registrare in questo modo se no se no chi se ne stica perchè comunque questa serie vi piaccia a me piace un sacco perchè io adoro in generale il personaggio di Rhyme and non l'ultimo mi piaceva di più quello dei primi giochi però chi se ne deve morire deve morire male oh grazie vorrei sì cioè molto gentile qui sono i cosi gli electun oh cristo salve salve sì c'è un convegno c'è un convegno di schifezze di tuccellacci del malaugurio morto morite ma morite oh ecco fatto ciao miei piccoli electun ancora quanti cacchio di uccellacci ci sono oh ecco fatto perfetto questo prendo io lo prendo io prendo io prendo io voglio i miei soldi i miei soldi andiamo questo è mio molto gentile oh attenzione 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 ce la fa ce la fa ce la fa signori ce la fa no non ho bisogno delle tue informazioni perchè io so come giocare per la che di chi sia nato ieri davvero oh eccola no poverina vieni qua bastardo oh quella è la mia quella è una fatta bella perchè devi fare questo vieni qua bastardo e vola anche guarda te sto sdrunz guardalo e vieni qua vieni qua bastardo vieni qua vieni qua bastardo vieni qua pezzo di esse vieni qua vieni qua sexy ciao sexy girl potere di volare ah questo ma non ce l'avevo già sbloccato sento electun sento il rumor di electun sogno o sono electun toi muoviti erano ancora basta lo avete rotto ecco tutti liberi ma ciao ma frici miei ma come state andiamo arrivederci ciao belli ve voglio bene non servite un cacchio ma me voglio bene cazzo ma c'è qualcos'altro tra questi uccelli del malaugurio nel deserto Siamo nel deserto, Dio santo, ci dovrà pure essere qualcos'altro. Ti ho finito il livello? Easy. Proprio easy, Hacab. Salve, signor mago. Questa volta non ho abbastanza soldi, però mi dà lo stesso a medaglia. Dai, sia gentile. Ah, non gli va bene, sei uno stronzo. Sei uno stronzo di mago. Che titolo è? Che titolo è per un livello di Ryman? Che cazzo? No comment. C'è un cosi? Addio. Vaffanculo. Schifo. Sei uno schifo, lo sai? Vedo qualcosa io. Eh, infatti. Aha, aha, i titoli nascosti. Ryman Jones. Lo chiameranno il Ryman Jones. Ciao, Kiki. Aspettate. Tie. Bitches. Dove andate? Dove scappa? Do... 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 Tu muori e tu muori. Tu muori. No! No merda! No! No! Devi essere un preciso. Terzo e ultimo tentativo. Tavolta col cavolo che fallisco, Dio santo. To... To... Bitch! Tie. E intanto muoiono, va bene. Questa cos'è? Ah, disattiva. Per un certo periodo di tempo. Oh, grazie. Proprio l'ho regalato così. Akab. Grazie mille. Tu sei figo. Vedo roba lassù. E quando vedo una cosa nascosta... Vedi? Vedi? Vieni, io capisco tutto. Vai. No, no! Sei uno stronzo, Ete. Perché? Perché mi sei andato a cavolo, Ryman? No? No, e vabbè, ma dai! No, e vabbè! Però sei cattivo anche te. Ti è stavolta andata male. Bitch! Bitch! No. No. Dai. Ecco. Grazie. No, io voglio prendere questo. Grazie. Ecco, molto gentile. Perfetto. Arrivederci. Oh, non si attiva. Perfetto. Muori. Schifo d'uccello. No, ancora questi pochi. Oh! Madonna, madonna! Madò! Madò! Qua su c'è qualcosa, lo so. Salve. Vi salvo io, signori. Oh, figo così, mi gusta. Carino. Che ho fatto? Vi ho salvato i cici miei, ma come è state ora? E muoio, perché cascano giù sotto. Ma sarete pirli. Ah, non ti disattivare. Ciao, cicci. No, 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 no. Madonna! Madò! Madò! Oh, le robe belle. Tiè. 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 Ma guardate che stile. Tiè. Sti uccellacci hanno letteralmente rotto le palle. Oh, anzi, le bolle. Ecco. Oh, salvati anche voi, cicci. Perfetto. Uhu. Perfetto. Puga cracofonica, andiamo. Un altro livello del... No! Tu! Vieni qua! Bastardo! Vieni qua! Ecco. Vieni qua, brutto schifo! Ti faccio il mazzo in mille pe... Ti faccio il culo in mille pezzi. Ecco, vaffanculo. Non avevo la vita. Non avevo la seconda vita, sei uno stronzo. Tiè. Dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? Vieni qua! Do vai? Do vai, chicco? Do scappi? Uhu! Nooo! Sei un bastardo, spero. Sei un bastardo, eh. Sei un bastardo forte. Oh, salve, 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 salve. Ok. H... H... Toh! Dove vai? Dove vai, bastardo? È vaffanculo, eh, però! Dopo lui mi semina... È vaffanculo di nuovo! Questa volta non parlo, sono concentrato. Vieni qua. Vieni qua, pezzo di merda! Smettila di correre come una dannata. Tiè. E ora dove pensi di andare, eh? Bitch! Che non ha saltato, Dio! Bitch! Madonna, quanto l'ho rischiato. Madonna. Madonna! Vieni qua! Vieni qua! Che ora le prendi! Ora le prendi! Ora le prendi! E... Madonna! Madonna! Toh! E no! Adesso te lo pigli forte, eh! Bitch! Madonna! Te lo meritavi! Mi sono presentato il dente di squallo e quindi sono... Il dente del teschio rosso. Come lo chiamerò io. Perfetto! Abbiamo fatto tre bellissimi livelli e qua ce ne rimane ancora quattro e direi quindi di concludere l'episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace. Ma io mi incazzo tanto e vi ucciderò. In caso. Se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.